Era un insieme di lacrime e dolore, scene straziante e commoventi, quelle viste ieri all'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabbia. Poco prima era arrivata la triste notizia, la piccola Vittoria Scarpa, 5 anni, non ce l'ha fatta, purtroppo è morta. La bimba scomparsa e poi ritrovata in fin di vita in mare, a torre annunziata, aveva perso la vita, inutili i soccorsi. E la corsa, nemmeno al pronto soccorso, è riuscita a salvargli la vita. Secondo quanto riporta da Il Mattino, erano lì presenti Mamma Mina e Papà Bruno. La donna, disperata, come possiamo solo immaginare, una mamma lo è, ha chiesto ai medici di poter vedere per l'ultima volta la figlia, un modo per darle l'ultimo saluto, un abbraccio, una carezza, l'ha sistemata e i capelli ancora bagnati. Alla povera bambina, a torre annunziata, è lutto per una comunità devastata dall'accaduto. Intanto però, ragazzi, si apre un'inchiesta, si cercano testimoni e verifiche anche sui bambini, sui bagnini. Nelle prossime ore, infatti, saranno sentiti vari testimoni, mentre le indagini degli investigatori condotti dai carabinieri cercheranno di ricostruire il buco di circa due ore, dalle 12 alle 14, durante le quali la bimba è scomparse ed è stata cercata ovunque, dalla mamma, sulla spiaggia, da tutti. Nessuno però a Lido, Risorgimento, dove è avvenuto l'incidente, si era accorto che la piccola fosse finita in acqua. Ci saranno così verifiche anche sui bagnini, se ce n'erano, quanti fossero e dove si trovavano in quel momento. Indagine di prassi per verificare che tutto sia stato messo in atto per salvare la vita di questa povera bambina. Indagine di prassi per verificare che tutto sia stato messo in atto per salvare la vita di questa povera. Indagine di prassi per verificare che tutto sia stato messo in atto per salvare la vita di questa povera.